L'assessore comunale Bruno Zilla ha presentato le modifiche e la riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico in città e nelle aree limitrofe, in occasione della donata nazionale degli alpini del prossimo maggio, nel corso della riunione che si è tenuta quest'oggi in sala giunta nella sede municipale. Erano presenti anche l'assessore provinciale Antonio Consorti, con il responsabile dei servizi Giuseppe Perisinotti, il presidente dell'ATAP Mauro Vagaggini, accompagnato dal direttore generale Andrea Crovato e dal direttore d'esercizio Luca Piesenter, un rappresentante dell'ATVO e funzionari comunali che seguono gli aspetti organizzativi della donata, l'assessore comunale Bruno Zilla. Nell'incontro di oggi, che è stato programmato da parte del Comune di Pordenone, assieme alla provincia e all'ATAP, abbiamo analizzato tutti gli aspetti che riguardano la manifestazione della donata degli alpini, ma soprattutto quello che è l'impatto derivante dalle modifiche sia della viabilità e tutti i provvedimenti che andremo a prendere. Questo comporterà nelle giornate, soprattutto di venerdì, di sabato e di domenica, una modifica sia del trasporto urbano che di quello extraurbano. È chiaro che dovremmo prevedere un nuovo piano ad hoc, spostando quelle che sono le attuali fermate o i capolinea degli autobus. Pertanto, assieme alla provincia, assieme all'ATAP e con i nostri tecnici, andremo a definire un nuovo piano che comunque servirà per dare un servizio in occasione della donata, ma che sarà modificato e quindi prevederemo in modo di organizzarlo per tempo e poterlo comunicare dove saranno i nuovi posti fermata sia del trasporto pubblico urbano che quello extraurbano. Grazie a tutti.